Gara interna per la Turris che affronterà allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco il Bisceglie. Un incontro sulla carta alla portata dei ragazzi di Franco Fabiano, reduci da tre sconfitte consecutive contro Avellino, Francavilla e Viterbese. Filotto di sconfitte che ha visto sfilare i corallini dalla zona playoff. A 27 punti inizia adesso ad incompere il pericolo play-out. Una situazione da evitare per fare in modo che il già difficile il girone di ritorno si complichi ulteriormente e per scacciare ogni vento di crisi. Anche il Bisceglie è a caccia di punti chiave. La compagine nera-azzurra staziona pienamente nella zona retrocessione, al 17esimo posto con 16 punti. Un digiuno di vittoria che manca per entrambe dallo scorso 23 dicembre, quando la Turris vinse per 2-0 ai danni della Cavese, mentre il Bisceglie riuscì a sconfiggere il termo per 1-0. I torresi cercheranno di bissare la vittoria ottenuta un girone fa. Allora la Turris si impose con un risicato quanto prezioso 1-0, grazie alla rete al 41esimo di Giannone. A dirigere il match sarà Tommaso Zamagni della sezione di Cesena, coadivato dagli assistenti Vitale e Ricciardi. Servirà in ogni caso una prestazione importante che possa rilanciare il cammino in campionato della Turris. L'obiettivo non può che essere dunque il raggiungimento dei tre punti in palio, per risalire la china in classifica e per risollevare il morale, inevitabilmente basso alla luce degli ultimi risultati. Grazie.